Il punto sulla preparazione del G7 ma anche l'inaugurazione di due importanti reparti dell'ospedale Piemonte e soprattutto l'istituzione del registro regionale per la sclerosi multipla. Sono questi alcuni degli impegni che avrà il ministro Lorenzin domani a Messina. Una giornata messinese tra impegni già programmati, inaugurazione di nuove strutture e l'inevitabile punto sulla preparazione delle strutture sanitarie al prossimo appuntamento del G7. Il primo appuntamento domani a Messina del ministro della Salute Beatrice Lorenzin sarà al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte con la visita del nuovo reparto di osservazione breve intensiva che è stato realizzato nella struttura e quindi il reparto di Stroke Unit. Infine il ministro Lorenzin inaugurerà il nuovo reparto di riabilitazione cardiovascolare. Non di poco conto alla visita al Piemonte e la titolare del Dicastero della Salute, un ospedale destinato alla chiusura e rimasto in vita quasi per miracolo con l'intervento dell'IRCS Neurolesi che ne ha rilevato la gestione puntando a farlo diventare un centro di eccellenza della riabilitazione. Nel pomeriggio poi nella sede di Casazza dell'IRCS il ministro inaugurerà i nuovi reparti destinati alla cura dei disordini del movimento e malattia di Parkinson e alla sclerosi multipla con endomotica e robotica. Infine verrà firmato il registro regionale per la sclerosi multipla dall'assessore Gucciardi e dal presidente nazionale della FISM e la Federazione Italiana Sclerosi Multipla Mario Alberto Battaglia e una convenzione tra l'IRCS e l'AISM e l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla alla presenza del presidente nazionale dell'Associazione Angela Martino. Un momento di particolare importanza per le oltre 9.000 persone affette da sclerosi multipla in Sicilia perché i dati del registro saranno utili per promuovere l'equità di accesso alle cure confrontando le pratiche assistenziali dei diversi centri e per valutare politiche assistenziali di carattere sia nazionale che locale. La giornata messinese si concluderà con una tavola rotonda presieduta dalla stessa ministra della Salute che metterà a confronto 24 esperti tra magistrati, avvocati, medici e legali sulla legge che tratta le responsabilità professionali nel mondo della sanità.